buongiorno fiorellini fralline pure oggi ripartiamo come tutti i giorni andare a camminare e vabbè comunque adesso andiamo a camminare facciamo figlio le sette a camminare un'oretta circa così mi sono fatta sempre lo spruzzo perché respiro meglio quando faccio lo spruzzo è ok vediamo a dei giri facciamo oggi via la sigla ciao fiorellini frulline sono ritornata guardate che capelli qua ondulati capore guardate c'è un segno fino a qua penso che mi sono cresciuti questo pezzo qua di capelli da qui a qui perché vedete c'è un segno qui e qua giù so lisci qua sono più ondulati così perché se vede che mi sono cresciuti tutto questo da quanto mi sono fatta la geratina tutto questo qua questo pezzo qua io penso che la geratina va quando questa qua cresce sotto il parrocchiere me la spunta e passa chi ne sono andati siamo andati io guerrino trovare una sorella di guerrino che ha 71 anni lei potrebbe essermi ma lei quell'altro pure un'altra pure il fratello mi facevano da giova da piccola e vabbè ecco cosa vede a trovare lei di mattina dopo e dopo sono fino a camminare andate a comprare qualche cosa e poi siamo andati da retro se la trovavamo e mi ha detto ho fatto questo quando mi sono cresciuto i capelli ho detto sì perché mi avevano rovinato i capelli e mi ha detto che ti si tagliati da sola? ho fatto no 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 vado da un parrocchiere a guerrino gli ho detto che il parrocchiere era perché aveva pettinato mia nipote la nipote di guerrino due anni fa e la sorella tre anni fa boh due anni fa e... ho detto no che si fa da sola io ogni due mesi vado da un parrocchiere per farmi la tinta anche la tinta mi faccio anche da sola perché sinceramente meglio sono pure più belli poi sono fatti meglio perché le tinte che compri a negozio ti si scoloriscono perché lui non mi dà tinta più qua sotto e io ce l'ho sempre uguale invece quando ti fai tinta da sola dopo si scolorano io vabbè non è che mi faccio una grande tinta mi faccio il colore mio per coprirmi i capelli perché se non ci avrei bianchi ce l'avrei questo stesso colore perché io ho questo colore infatti qua sopra ho la ricrescita guarda che si vede non si vede la ricrescita è un mese che mi sono fatta capire e vabbè comunque biondo scuro ma ne sembra mezzo rossiccio con i riflessi rossi così e vabbè comunque ieri siamo andati a trovare la mia cognata ha tanto tempo che no perché quando noi andiamo a trovarla non c'è mai ha detto eh perché io forse vado a fare spesa ma nel momento in cui vado a fare spesa o fa un lavoretto uno ce la fa solo perché non riesce più a lavorare e ha detto fa il lavoro di un cognato nostro mi sa o da sorella perché si abbassa prima lavorava tanto mi ricordo mamma mia è troppo e insomma ecco ma sto facendo la salita perché non so se si vede qua ma sto a fare la salita e insomma niente ma quanto ci capita andiamo a trovare oggi sto facendo il video è sabato e oggi ritorna mia figlia e mia nipote perché è finita la vacanza allora sicuramente dovranno andare a lavorare con il ragazzo non con il compagno che non convivono e dopo mi sa va mia nipote dovrebbe andare in vacanza con il padre boh non so come si decidono loro non so come funziona e vabbè quando lui va in vacanza perché penso che lavora ancora lui ci va a costo in fabbrica invece mia figlia fa la barrista e gli hanno dato adesso le vacanze ma mamma mia è salita una salita che dal telefonino non si vede più di tanto la salita però perché io sto parlando pure comunque un po' ha rifrescato un po' d'aria così però dice che deve ritornare al caldo un'altra volta quello che ti manca senza che ti veda senza respiro vabbè vabbè che io so le sei e mezza così che so camminare beh un pezzetto che so camminare perché dopo ho fatto dopo la sigla io ho fatto un pezzo di strada e insomma mo c'è più pienura c'è più salita mamma mia no fa caldo però a quest'ora infatti la gente non c'è fino alle 7 qua dopo alle 7 viene sempre persone infatti quando quando vengono persone io vado via perché è finito ma mi sta bene il parco da soli però a me mi piace di più che poi è pure più comodo perché mi ha bloccato perché vengono le persone che so registrare se abbiamo se passavano persone qua blocca blocca e poi c'è così non c'è nessuno vedete non c'è nessuno e vabbè queste sono lunghe un botto ho visto che mi regavo i capelli quanto metterebbe i tanti capelli non so se si spezzano non so e allora la notte non me li lego giusto non c'è solo tanto no perché ho il ventilatore proprio attaccata alla faccia e sempre che ho due giorni che non su tocco il ventilatore è così però il giorno se capita me lo metto mi fiocco un po' ho comprato tanti fiocchi me li metto per esempio ora quando ho finito camminare vado a casa e mi faccio la doccia me lego i capelli per fare la doccia non so lunghi però mi stanno sulle spalle vedete stanno a stare sulle spalle perciò comunque mo io a settembre mi dovrei fare la tinta però non so se lo stanno in ferie perché gliel'ho chiesto e mi ha detto settembre ottobre non lo sapevano quando andavano in ferie penso a questo lavorano mamma mia lavoravano tanto perché da mattina a sera aveva continuato c'hanno in negozio sempre lavorare sano la domenica invece va a fare spose mamma mia non c'ha mai riposo giusto l'ora di mezzo forse comunque mi do capire se settembre chiudo o non faccio ottobre se invece settembre è aperto vado a settembre a farmi i capelli a fine di agosto provo ad andare lì e vedere se sempre è chiuso a settembre vabbè io dovrei fare il settembre i capelli però se è chiuso a settembre vado a ottobre vabbè vediamo non è che c'ho tanti capelli bianchi c'ho qua bomb isolata così 5-10 capelli detti capelli 10 5-10 massimo capelli in tutta la testa bianchi ma poco perciò se invece vedete due mesi o tre mesi non è che a me si guardano se vede esageratamente i capelli bianchi vabbè comunque adesso vi lascio ho fatto mezzo giro parlando con voi e adesso ciao a dopo capace ecco pure oggi abbiamo finito sono arrivata a casa e pure oggi abbiamo finito e ciao al prossimo video capace